Paolo Nori ha Internet Festival per una lezione su Dostoevsky, ma come è nato il suo amore per la letteratura russa? Il romanzo di cui parlo oggi è una biografia di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, si intitola Sanguine ancora e ha a che fare proprio con l'inizio. Il primo libro russo che ho letto, ho 15 anni ed è Delitto e castigo di Dostoevsky e io mi ricordo nella stanzetta, il momento in cui ho letto quello che si dice, che si chiede a Raskolnik, il protagonista che si chiede, ma io quanto valgo? Sono come un insetto o sono come Napoleone? E io ho 15 anni e mi sono fermato nella lettura e mi sono chiesto, e io quanto valgo? Sono come un insetto o sono come Napoleone? E ho avuto l'impressione che quel libro lì, che era stato pubblicato 112 anni prima, a 3000 km di distanza da me, avesse aperto dentro di me una ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare. Il titolo di questo romanzo è la risposta a quell'impressione di 44 anni fa. Quindi si può dire che Dostoevsky ha ancora tanto da dirci? Io credo di sì, a me sì, leggere e rileggere Dostoevsky è sempre un'esperienza, ogni tanto mi chiedono cosa ci dice Dostoevsky della Russia, io ho l'impressione che ci dica tanto, oltre che della Russia dell'Ottocento, ci dica tanto su di noi. Lui per qualche misteriosa capacità è riuscito a fare il nostro ritratto appunto 200 anni prima che venissimo al mondo. Dostoevsky ha avuto una vita, si può dire, avventurosa, una condanna a morte scampata, cioè la sua biografia in questo senso si scrive quasi da solo o no? Sì, il sottotitolo del libro è L'incredibile vita di Fiatro Michalio Dostoevsky e io credo sia vero, non è un'operazione di marketing perché lui ha avuto veramente una vita incredibile che varrebbe la pena di raccontare indipendentemente dal fatto che lui è uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. La condanna a morte, la passione per il gioco, lui aveva l'abilità di mettersi nei guai e in effetti ha ragione, raccontare la vita di Dostoevsky non è stato faticoso, è stato piuttosto un piacere. Eccola, è stato appena vinto il Nobel per la letteratura da una scrittrice di memoir. Secondo lei quanto della vita degli scrittori finisce un po' per forza in quello che scrivono o no? Non lo so se c'è una cosa legata alla letteratura che è così per forza, non lo so. È una materia complessa nella quale io credo non valgano, non vale nessuna regola. Se penso che bisogna fare così, subito mi viene in mente un esempio di qualcuno che ha fatto in un modo diverso e che è riuscito a costruire delle cose memorabili. E quindi io credo che non ci sia una regola, è possibile senz'altro raccontare la propria... Io ho appena incontrato la settimana scorsa Emmanuel Carrère, lui è un altro esempio di uno che parla di sé senza essere, come si dice con un aggettivo che vuole essere offensivo, ombelicale.